Ci sono attimi per i quali non hai mai provato la pressa di sentire delle forti piacevoli emozioni, come lo scivolare sul tuo corpo nudo di una piuma d'oca tenuta tra le mani da un fiore di donna, la tua, e sentire in quel momento il senso della leggerezza per vaderti a tal punto di andare via come fossi entrato in un coma così particolare, da farti dire cose senza senso descrivere episodi di altri mondi e parole incomprensibili e più, tutto ciò per il tempo di mille carezze, e di quel mondo così ovattato e candido assaporare le infinite gioie di un amore celestiale, indescrivibile con parole umane, ma non con quelle del cuore dell'anima così profonde e così pregne di significati emozionanti da non capire più dove sei, se non ritrovarti adagiato con il capo sul grembo della tua donna, ancora con la piuma d'oca tra le sue mani ad accalzare le tue membra, come un piacevole ritorno sulla terra, offrendo a lei i frutti più saborosi di te in un solo respiro. Un solo respiro, testo e voce di Mauro Mazze. Grazie a tutti.